Un minuto a mezzogiorno, bentrovati da tutti noi del TG2000 in apertura, andiamo subito negli Stati Uniti, seconda notte di proteste, scontri in 170 città americane dopo la decisione del gran giurì di non processare la gente che ha ucciso l'afroamericano Michael Brown a provocare ulteriore clamore, però sono proprio le parole del poliziotto che in un'intervista si dice dispiaciuto per aver ucciso, aggiungendo di aver fatto soltanto il suo dovere. Barbara Masulli. A un giorno di distanza dalla decisione del gran giurì di non incriminare il poliziotto che ha ucciso il giovane afroamericano Michael Brown, a far rumore sono proprio le parole della gente, Darren Wilson, che nella sua prima intervista televisiva si dice rammaricato per la morte del ragazzo, però, precisa, è qualcosa che può sempre accadere, ho solo fatto il mio lavoro e non c'è nulla che non rifarei. Al giornalista di ABC News, Wilson racconta che Brown avrebbe impugnato la pistola, non aveva le mani in alto mentre sparava contro di lui, continua il poliziotto, che descrive il diciottenne come l'incredibile Hulk, un ragazzo grande e forte dal quale quindi si è dovuto difendere. Ma fra le strade di ben 170 città americane, da Chicago a New York, passando per Seattle e soprattutto Ferguson, la rabbia e le proteste del popolo non si placano. Chiede giustizia e si ribella contro chi ha deciso di non processare Wilson. Qui siamo proprio a Ferguson davanti alla stazione di polizia, dove la tensione era alta, anche se, secondo le forze dell'ordine, non è ai livelli della notte precedente. Qui invece siamo a Oakland e in California, centinaia di manifestanti hanno bloccato il traffico e le strade più importanti. Intanto, mentre il governatore del Missouri, Jen Nixon, triplica la presenza della Guardia Nazionale nella regione di St. Louis, portando le unità a 2200, dalla Casa Bianca arrivano le parole di Barack Obama. Non mi piace chi prova a distruggere la propria comunità con le violenze, dice il Presidente, ma capisco la frustrazione e il dolore di chi prova un senso di ingiustizia per come viene trattata una parte della comunità o alcuni individui, in modo non degno. Lo capisco e voglio lavorare con voi per questo e voglio muovermi nella vostra stessa direzione. Il Presidente sarà al vostro fianco. Rientriamo in Italia, parliamo di scuola, precariato, contratti di lavoro, dei supplenti, con una sentenza di poco fa destinata a far discutere, da parte della Corte di Giustizia europea, la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato. Dunque, sentenza del Tribunale comunitario, la normativa italiana non prevede alcuna misura che limiti la durata massima totale dei contratti o il numero dei loro rinnovi, spiega la nota che poi conclude, le norme europee non ammettono una normativa che in attesa dei concorsi per l'assunzione di personale e di ruolo delle scuole statali autorizzi il rinnovo selvaggio di contratti a tempo determinato e sono tanti naturalmente gli supplenti qui nel nostro Paese. La pagina politica, restano le tensioni all'interno della maggioranza dopo l'approvazione della riforma sul lavoro, il cosiddetto Jobs Act con la cancellazione dell'articolo 18 per motivi economici, tensioni che non risparmiano anche il fronte delle opposizioni. Se quella sulle elezioni regionali è stata una vittoria mutilata per il pesante astensionismo, per il premio a Renzi il successo incassato con l'approvazione alla Camera della riforma sul lavoro, il cosiddetto Jobs Act rischia di avere pesanti conseguenze, un solo voto in più di quelli necessari per il via libera sono la dimostrazione delle enormi difficoltà che circondano l'esecutivo. Se il voto contrario dell'opposizione era scontato suscita la preoccupazione del Premier, allora mai evidente dichiarata spaccatura all'interno del PD. I 30 dissidenti che hanno deciso di abbandonare l'aula nel momento del voto, ai quali si aggiungono anche altri due deputati che invece hanno di fatto votato no, rappresentano un problema reale per Renzi in vista anche delle prossime battaglie politiche a cominciare dall'elezione del capo dello Stato. Momento centrale decisivo anche per Silvio Berlusconi. Dopo le mazzate elettorali il leader di Forza Italia prova a frenare la ribellione interna ed apre alla possibilità di sostenere Matteo Salvini al leader della coalizione di centro-destra, ma la strada è ancora lunga e non senza rischi. Un quadro in evoluzione dunque, ma Renzi vede positivo e incassa il primo sì al Jobs Act. La parola ora passa per il via libera definitivo di nuovo al Senato a causa delle modifiche apportate a Montecitorio, soprattutto sull'articolo 18 eliminato per i licenziamenti per motivi economici. Mentre il reintegro del lavoratore resta per i licenziamenti nulli discriminatori e per alcune fattispecie di quelli disciplinari cui dettagli dovranno ancora essere definiti, viene introdotto così il contratto a tutele crescenti con il riordino delle forme contrattuali con la cancellazione dei contratti di collaborazione coordinata e collaborativa conosciuti come COCOCO. Previste anche nuove misure per gli ammortizzatori sociali. Parliamo dell'avvertenza delle acciaierie speciali di Terni. Giornata decisiva sul futuro dei lavoratori. Alcuni operai rientrano oggi in azienda dove però all'esterno restano ancora i presidi di protesta. Tutto è appeso alla trattativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico tra meno di un'ora. Federico Plotti. Il rientro in fabbrica sarà graduale, si completerà il primo dicembre ma tutto resta ancora legato agli sviluppi della trattativa tra aziende e sindacati che riprenderà tra poco alle 13 in punto al Ministero dello Sviluppo Economico. Resta il fatto però che all'asta di Terni si torna al lavoro dopo più di un mese di protesta. Alcuni reparti dell'acciaieria dalle 6 di questa mattina hanno ripreso la loro attività. Lo sciopero comunque non è stato revocato e fuori dalla fabbrica restano i presidi, almeno fino a quando si conosceranno gli esiti dell'incontro al Ministero dello Sviluppo. Poi, fanno sapere i sindacati, ci sarà una rimodulazione della protesta con un progressivo rientro dei lavoratori. Sul futuro dell'acciaieria continuano ad esserci dei dubbi, sicuramente meno di prima ma la situazione deve essere ancora chiarita fino in fondo. Certamente non calerà dall'alto la soluzione a tutti i problemi ma l'incontro di oggi tra vertici aziendali e sindacati dovrà quantomeno chiarire la linea che vorrà adottare l'Aste e la ThyssenKrupp nella revisione di quel piano industriale così contestato dai lavoratori e che ha portato ad una lunga vertenza che adesso potrebbe realmente terminare. Chiarita la questione che riguarda gli investimenti, la produzione e gli esuberi restano aperte quelle relative soprattutto alla distanza sul salario e all'integrativo da riconoscere dopo la disdetta di tutti i contratti aziendali. Continuiamo a parlare di lavoro ma anche di finanze e mercati, ci colleghiamo allora subito con la nostra sede di Milano dove per noi c'è Marco Bergamaschi proprio per alcune novità sul fronte del lavoro solidale. Marco a te. Sì buongiorno, Milano in questi giorni ha ospitato esempi del fare rete nel campo del lavoro e dell'impresa contro la crisi e in dialogo con il non profit. Si chiude infatti oggi la decima edizione del matching promosso dalla Compagnia delle Opere. Ascoltiamo insieme il servizio realizzato da Luciano Piscaglia. Si incontrano e si parlano, si conoscono e si scambiano esperienze, idee e proposte. Sono le oltre mille imprese piccole e medie che partecipano a Milano alla nuova edizione di matching, un evento promosso dalla Compagnia delle Opere. Un'occasione offerta alle aziende per aiutarsi a capire dove va il mercato e come si può cambiare per affrontare e non subire la crisi. Una tre giorni in cui in più di 300 tra workshop e laboratori suddivisi in 15 aree tematiche si sviluppa una fitta trama di relazioni tra imprenditori che fanno rete per crescere condividendo esperienze e progetti. Costituisce un'ottima modalità di lavoro perché ci permette di dialogare, di stare attorno a un tavolo. Eravamo poco fa ad un workshop, saremo tra poco ad un tavolo di lavoro dove è possibile fare incontri, incontri di valore. Si tratta di unire un po' le forze perché le nostre piccole e medie aziende italiane non non è che possono sfondare tutti, devono andare all'estero di internazionalizzazione che non ci sono le risorse. Alla sua decima edizione Matching ha presentato quest'anno un'interessante novità. Per la prima volta ha dedicato un'intera area al welfare e al non profit per fare dialogare tra loro il mondo dell'impresa e quello altrettanto importante delle realtà senza fini di lucro. Oggi il non profit è in grado non soltanto di essere una risposta alle domande di assistenza ma anche alle domande di lavoro e quello che genera sono prodotti, servizi e mondi che sono ricchissimi e in grado di competere anche sul mercato. E a scandire invece la giornata economica internazionale stamani è l'intervento del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker che nella seduta plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha presentato il piano di investimenti da 315 miliardi per i prossimi tre anni. Un piano che sarà operativo dal prossimo giugno e che drenerà risorse verso i paesi più colpiti dalla crisi e che riguarderà anche la scuola, i trasporti, la sanità e l'efficienza energetica. Oggi l'Europa ha detto Juncker cambia pagina dopo anni passati a ristabilire la credibilità di bilancio e a promuovere le riforme e poi ha precisato che il piano di investimenti rappresenta un modo di chiudere il cerchio insieme a riforme e disciplina di bilancio. È essenziale, ha aggiunto il Presidente della Commissione Europea, eliminare gli ostacoli burocratici per creare le condizioni per gli investimenti. E intanto, intanto, le borse europee, compresa Piazza Affari, viaggiano al rialzo in attesa di alcuni dati statunitensi sulla congiuntura negli Stati Uniti. Da Milano è tutto, a Roma vi restituisco la linea. Grazie a Marco Bergamaschi e buon lavoro. Come nel film di Totò e la banda degli onesti, ma in questo caso purtroppo è tutto vero. Arrestate 56 persone nel napoletano che avevano messo in piedi una vera e propria fabbrica per la falsificazione di monete e valori di bollo. Dalle prime ore dell'alba in corso una vasta operazione da parte dei carabinieri di Napoli e Caserta, provvedimento cautelare nei confronti di 56 soggetti ai quali vengono contestati i reati di associazione per delinquere, falsificazione di monete, introduzione nello stato di valori di bollo falsi e contraffazione di altri pubblici uffici. Tra le perle questo gruppo criminale, pensate, ha creato una banconota da 300 euro e sono riusciti pure a smerciarla con successo in Germania. Davvero incredibile. Veniamo al caso Ebola con il medico italiano ricoverato allo Spallanzani di Roma. Era atteso per mezzogiorno il bollettino medico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive slitta di mezz'ora tra 20 minuti alle 12.30, ma intanto l'AIFA, l'Agenzia italiana del farmaco, ha autorizzato sul medico in cura la somministrazione di sei farmaci sperimentali in via straordinaria ed eccezionale e sulla base di una precisa richiesta dello Spallanzani scrive appunto una nota dell'Agenzia italiana del farmaco. Naturalmente più tardi tutti gli aggiornamenti. Siamo adesso all'udienza di Papa Francesco in Piazza San Pietro, catechesi del Pontefice sul tema della Chiesa pellegrina verso il Regno. Il Paradiso più che un luogo, ha detto, è uno stato dell'anima che chiede di pregare per il suo imminente viaggio in Turchia. Lo ricordiamo, Papa Francesco partirà per la Turchia venerdì mattina qui da Roma con l'arrivo a mezzogiorno, seguiremo tutta la diretta e durante l'udienza il Papa ha ribadito, ha lanciato un appello al mio viaggio verso la Turchia possa portare frutti di pace e sincero dialogo tra le religioni. Allora vediamo sull'udienza di questa mattina il servizio preparato per noi da Francesco Durante. Lo Stato italiano dovrà pagare un vitalizio bimestrale a un bambino ammalatosi di autismo a causa di un vaccino esavalente. Ovviamente c'era qualche problema con il servizio. Allora facciamo così, vi inviamo per l'udienza del Papa all'edizione delle 18.30, quella subito dopo il rosario da Lourdes, per ascoltare anche le parole di Francesco. Da parte nostra l'augurio di una felice giornata e buon pranzo. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.